L'incontro è andato bene anche se è stato un incontro interlocutorio perché abbiamo fatto presente al prefetto l'urgenza per noi di avere il nome del commissario e quindi di poter continuare l'attività lavorativa perché adesso siamo entrati in una fase in cui c'è una procedura da seguire e quindi è determinante la tempistica per non fermare le attività che oggi è già presente in azienda e in più abbiamo chiesto che l'incontro al ministero possibilmente sia anticipato per avere invece le conferme sulle commesse che dovrebbero arrivare dal governo. È stato importante far presente al prefetto queste cose ma è altrettanto importante portare avanti il confronto con l'azienda e con la procedura a questo punto perché attenderemo dal tribunale la nomina. Grazie. 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 Grazie.